Sei chiamato a testimoniare. Cristo è risorto! Buona giornata carissimi amici. Oggi, 29 agosto, ricordiamo il martirio di Giovanni il Battista. Leggiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, dal 17 al 29. In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva. Perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. E la uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Amen. Carissimi amici, questo episodio è sempre molto particolare. L'episodio in cui Giovanni il Battista, colui che aveva preparato la via al Signore, che aveva gridato nel deserto, preparate il vostro cuore, perché è qui, è qui il Signore. Colui che aveva detto ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Proprio in un modo assurdo doveva morire, in un modo e in una via che nessuno avrebbe potuto immaginare. Tra l'altro è una via dove c'è di mezzo il mondo, una vita pagana, una vita di sfarzo, di ricchezza, di divertimento, una vita dove la fede non c'entra nulla e a causa di una promessa, un giuramento fatto in quella festa di Erode, Giovanni il Battista perde la testa. Sembrerebbe quasi una morte, senza senso, ma noi sappiamo che c'è una causa. Infatti Giovanni il Battista diceva a Erode non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. alzava la voce, gridava, proclamava la giustizia di Dio. Giovanni il Battista è martire, cioè è testimone di ciò che Dio stava per fare, della venuta del Cristo stesso. E pensate, durante la sua vita dice ai suoi discepoli, egli deve crescere, io invece diminuire. Gesù deve crescere, io diminuire. Nella vita del cristiano, discepolo di Cristo, il nome di Gesù deve essere in alto. Ogni giorno, dal mattino, da quando apriamo i nostri occhi, dobbiamo innalzare il nome di Cristo. Nome sopra ogni altro nome, dice la lettera ai filippesi al capitolo 2. Nel suo nome ogni ginocchio si pieghi, ogni lingua proclami che Gesù è il Signore. Giovanni il Battista ha fatto questa esperienza, ha messo il nome di Gesù sopra ogni altro nome, il nome di Yeshua, in ebraico. Un nome meraviglioso, per il quale Giovanni il Battista ha voluto dare la vita. Quindi Giovanni il Battista oggi lo vediamo come un profeta che grida, che apre la bocca, alza la voce, come era stato predetto dal profeta Isaia, e non indietreggia, va avanti, pur con il contrasto del mondo. Perché Erode rappresenta il mondo. Noi siamo molto spesso schiacciati, spaventati dal mondo, quando diciamo Gesù è il Signore, quando diciamo in Gesù è la mia forza. Nei commenti che ricevo in tutti i social, ogni tanto, ci sono alcune espressioni un po' particolari. Basta con queste cose del Medioevo, basta con queste sentenze di Dio, non ci crediamo più, siamo nel 2023, ci avete riempito la testa di ideologie, viviamo oggi, la scienza ha fatto dei progressi. Fratelli e sorelle, il mondo da duemila anni, anche prima, combatterà sempre contro Dio, e contro di noi che seguiamo Dio, che siamo Suoi discepoli. Ma non abbiate paura, ha detto Gesù, perché io ho vinto il mondo. Amen? E questo è la nostra missione, diminuire per innalzare il nome di Gesù. L'importante è che attraverso la mia vita, i miei gesti, le mie parole, io possa innalzare Lui. non la mia bravura, le mie virtù. Ecco perché siamo chiamati ad essere anche noi, ciascuno di noi, tu, io, testimoni che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, che Gesù è la speranza, che Gesù ha l'ultima parola, addirittura sopra la morte, il nemico che l'uomo non riuscirà mai a sconfiggere, nemmeno la scienza. La morte, dice la lettera ai Romani, soltanto Cristo l'ha vinta. Ecco perché abbiamo la vita eterna, grazie a Gesù. Quindi testimoniamo con le nostre parole, con discorsi che riguardano ciò che Dio ha fatto nella mia vita. Testimonia coi fatti, con tuo stile di vita, che Gesù è vivo, che Gesù è il tuo aiuto. Io, pensate, proprio oggi festeggio l'anniversario dei miei voti perpetui. Il 29 agosto del 1999 in Repubblica Ceca, a Pilsen, ho detto il mio sì definitivo a Gesù Cristo, sposo della mia vita, lasciando il matrimonio, i beni e la libertà, vivendo nella comunità con Ionia Giovanni Battista. E sono felice, perché questa è una testimonianza che chi ha Cristo non manca di nulla, che io sono felice e Dio ha sempre riempito il mio cuore, la mia mente e le mie forze. E voglio gridarlo ai giovani, perché Dio oggi chiama molti giovani a seguirlo nella verginità per il regno dei cieli, riempiendo il loro cuore, fratelli e sorelle. E la verginità è una testimonianza. Giovanni il Battista era vergine per il regno dei cieli e anche Gesù. È meraviglioso vedere come anche l'Apostolo Paolo di Tarso è stato testimone con la sua stessa vita. Allora chiediamo al Signore nello stile, nella chiamata e nella vocazione che ci ha fatto di testimoniarlo nei fatti. E gli altri diranno in te vedo il Signore risorto. Amen. Grazie Gesù per questo bellissimo Vangelo di oggi. Grazie perché mi chiami di nuovo a testimoniare e a inalzare il tuo nome nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio cuore. Signore Gesù io ti chiedo oggi di mandare il tuo Spirito Santo affinché io non abbia paura del mondo non indietrecci di fronte a quei momenti in cui sento che tu mi chiami a parlare di te, a testimoniarti. Vieni Spirito Santo infondi in me l'entusiasmo, la gioia di dire che tu sei il Signore della mia vita e che Gesù Cristo è il mio Maestro, la mia forza, il mio tesoro. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi da Giovanni Battista a noi. Sei chiamato a testimoniare. Fa della tua vita una meraviglia, fa della tua vita una meravigliosa testimonianza. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. A sete di te, Signore, l'anima mia. A sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia.